In America viene commesso un furto ogni 11 secondi, un'aggressione ogni 65 secondi, un reato di sangue ogni 25 secondi, un omicidio ogni 24 minuti e 250 violenze carnale al giorno. Tu sei il male e io sono la cura. Comra, giovedì 21 maggio alle 20.30, su Rete4. È il poliziotto dei casi impossibili. Tu sei il male e io sono la cura. È un duro. È l'uomo delle emergenze. Chiama il cobra. Detestato per i suoi metodi. Temibile. Implacabile. Io vado pazzo dalla conversazione. Chiama il cobra. È l'uomo delle emergenze. Chiama il cobra. Chiama il cobra. Chiama il gara. Chiama il cobra. Chiama il cobra. come si mette un casino si sa chi è uno dei tanti paranoici schifati della vita a che punto siamo sal ciao per me non era il caso di chiamarti ci tengo a dirti grazie avanti muovetevi grazie a tutti Muoviti, stupida, o ti spacco la testa Mettiti là e stai giù Stenditi a terra, tu non fiatare E sta lontano da lei Sei nai, zio Ehi, io ti ammazzo, Sbirro Li massacro tutti Devo abbattere le strutture di questo sparco mondo Com'è che non vedo le telecamere? Sta' attento, ho una bomba, eh Posso fargli a pezzi Fa' venire subito la tv O li stritalo tutti questi verbi Hai capito? Così va il mondo oggi Ma che aspetti, porco? Vado però, eh Se ti avvicini faccio una strage, è chiaro? C'è da un bocchio di letame In America Viene commesso un furto ogni 11 secondi Un'aggressione ogni 65 secondi Un reato di sangue ogni 25 secondi Un omicidio ogni 24 minuti E 250 violenze carnali al giorno Tu sei il male E io sono la cura È il poliziotto dei casi impossibili Tu sei il male E io sono la cura È un duro È l'uomo delle emergenze Chiamo il Cobra Detestato per i suoi metodi Temibile Implacabile Io vado pazzo per la conversazione Per il ciclo I duri di Rete 4 Silvester Stallone Cobra Sabato 21 e 20